Gianmarco Caponia, referente nazionale di Possibile, parliamo del Lazio Pride che si terrà a Frosinone il 22 giugno prossimo, una scelta che sta facendo molto discutere l'opinione pubblica. Lei di che posizione è? Noi di Possibile in questi anni siamo sempre stati al fianco della comunità LGBT nella loro richiesta di rispetto, nella dignità e nei diritti umani fondamentali. Fa anche un po' sorridere che oggi, ancora oggi nel 2019, ci siano queste grandi posizioni differenti sulla questione di un Pride. Il Pride è un momento di rivendicazione collettiva, di diritti, di uguaglianza, di libertà, del principio di autodeterminazione. Credo che mai come quest'anno con un clima particolarmente duro nei confronti delle persone omosessuali, lesbiche e transessuali, ma anche delle donne e di altre minoranze, sia veramente importante che ci siano momenti collettivi di battaglia e di rivendicazione. Sono molto felice, noi di Possibile siamo molto felici che il comitato promotore del Lazio Pride abbia scelto Frosinone, che quindi si avvia ad avere il primo Pride in città e siamo molto felici che l'abbia fatto quest'anno, quando ricorrono i 50 anni dai moti di Stonewall a New York, che sono stati il primo momento in cui la comunità omosessuale ha deciso di ribellarsi ai soprusi e alle discriminazioni. Ecco, quello su cui noi vogliamo puntare l'attenzione, su cui daremo il massimo contributo al comitato organizzatore è proprio quello di costruire un processo di sensibilizzazione sui temi e sulle rivendicazioni della comunità LGBT.